prima puntata della nostra rubrica parlando di sport con concessionaria ford saskar iniziamo da un volto noto notissimo della tv italiana marco nosotti tra poco sarà con noi lui che a modena è nato ha iniziato la sua avventura giornalistica oggi si trova diciamo nel olimpo dei giornalisti italiani e non solo con lui parleremo della sua vita parleremo di sport parleremo di tutto ciò che concerne appunto parlando di sport allora marco nosotti è il primo personaggio della nostra rubrica parlando di sport con perché siamo partiti da marco nosotti perché marco nosotti è un top player della comunicazione te l'ho detto prima dell'intervista te lo torno a dire oggi mi posso vantare di essere un amico di marco che nonostante sia lassù ci guarda dall'olimpo di sky riesce a raccontarci e a raccontarsi anche fuori diciamo dalle telecamere cioè davanti alle telecamere in questo caso del nostro umile sito caro marco innanzitutto come stai la schiena beh un saluto a tutti beh umile sito un sito che funziona un sito che mette in contatto la gente quelli immogenesi chiamano lo sport e parlano di sport l'ho fatto e con passione si vende ecco questo è quello mi fa molto piacere essere qui come sta la mia schiena da bestia perfetto sulla schiena non non ci siamo ascolta marco tu sei hai iniziato a lavorare e su modena a modena facevi sei stato ad antenna 1 hai fatto ad alcune cosa cosa ti cosa qual è il ricordo che ti viene in mente per primo pensando a modena me ne vengono diversi intanto le persone con cui ho lavorato mi viene in mente quella modena mi viene in mente quell'esperienza fortunata perché eri sempre in prima linea facevi la cronaca la politica facevo anche lo sport e c'era la possibilità di lavorare di sbagliare e di di conoscere la tua città e quindi c'era la sensazione che qualcosa si potesse costruire e tutto era nuovo e tutto era possibile poi che si sia fatto un altro discorso si sia fatto bene un altro discorso e allora ricordo le sere le sere i venerdì sera di sabato sera e le chiamate alla polizia no oppure le sito quando le lunghe conferenze stampa e lunghe i consigli comunali per dire ma poi quando incontravi la gente per parlare i problemi della gente il bello di fare il informazione a livello locale è proprio quello che la gente ti dà la notizia e ti verifica e se il giorno dopo hai detto qualcosa o non ti guarda ma ti incontra per la strada e questo è anche bello è stato perché penso che avesse questa funzione il fare fare giornalismo si si mediare la notizia con il tuo pubblico io ricordo le lunghe notti ad esempio quando c'era l'esodo si andava con la polizia stradale e si girava con per testimoniare una notte il lavoro della polizia della polizia stradale era molto bello ricordo appunto le partite della panini un po meno il modena perché allora a modena cosa ha fatto la pallavolo cosa ha fatto i ragazzi cosa ha fatto le ragazze i gialli serve senz'altro ma allora forse avevamo una vocazione antenna una un pochino più palavolistica ecco allora con nolenza dallari con lorenzo dallari insomma un'altra figura che è partita da modena ed è arrivata tanto tanto in alto tu parti da modena sei sei un calciatore anzi un portiere un portiere però un portiere fino al giovedì no diceva qualcuno se non erro sì sì era il povero nardino previdi grande intenditore grande dirigente di calcio e tuttora incontro ancora girando per i campi d'italia e non solo tanta gente che l'ha conosciuto l'ha apprezzato è detto un portiere del giovedì peccato se giochi la domenica Marco dopo dopo modena è arrivata diciamo tu sei stato tra i pionieri delle trasmissioni in diretta ti ricordo bene a tele più da lì è arrivata sky cosa cambia di più quali sono le cose che cambiano di più tra la tv locale ed essere in uno dei grandi media nazionali internazionali sai mio buon maini cosa cambia il mestiere sempre quello il mestiere è quello lì di verificare di vedere di scrivere mantenendo sempre un discorso legato alla sintesi e al fatto che non parli per te non cerchi per te ma cerchi per far capire le cose agli altri qualsiasi cosa a me è sempre stato così da quando si ricevano con telemodena anche con te non unit i telegiornali con le braghe corte perché c'era un caldo berichino ma le braghe corte le ho usate anche mi ricordo una telecronica di war league italia cuba mi sembra o brasile cuba a torino in un pallaruffini caldissimo giacca e cravatta ma sotto avevo le calzocini ma l'ho prestato quello nazionale perché c'era troppo caldo ecco per dire e cosa cambia è stato bello ritrovarsi in una pay tv che ancora non era tale come tele più idea dell'ora di berlusconi che però poi per la legge mammi doveva prendere distanze quindi doveva avere tre televisioni tre giornali non poteva avere la pay tv e questa pay tv che nasceva anche lì il senso del pionierismo della prima volta del provare di una strada tracciata ma che doveva ancora essere asfaltata eccetera e quindi quello è stato bello è cambiato in modo di rapportarsi con il modo della produzione perché dietro ad un notiziario dietro un evento dietro una produzione in questo caso di un evento sportivo ci sono tante altre componenti che prima non c'erano ci sono altre altre persone e altre professionalità molto alte che ti insegnano a poi fare il lavoro il tuo mestiere poi a un certo punto fai la telecronica e andare a fare la telecronica e sei preparato su quello fai l'intervista e tu devi lavorare con tutti i prepari per il personaggio ma poi c'è tutta una cosa una costruzione dietro nel pre e nel post che mi ha veramente affascinato e mi ha aiutato a crescere senz'altro perché veniva dall'esperienza finivest e rai che in quel momento si incontravano più finivest perché in quel momento telepi nasceva da una costola diciamo così del mondo finivest si guarda beh il discorso è questo che è una settimana come tante nel senso che dipende un po' da quello che fai SkySport 24 è hard news è breaking news e nello stesso tempo il concetto che ogni mezz'ora qualcosa deve cambiare può accadere cercare di tenere sempre una finestra aperta sul mondo sportivo il calcio in modo particolare nel mio caso sono stato fortunato in questi anni sono passato da essere conduttore a fare telecronica e pallavolo da seguire il calcio anticipi e posticipi eccetera però cosa fai bene o male quando hai una squadra ogni giorno segui la squadra poi c'è l'evento c'è il lavoro fuori di raccolta delle notizie di collegamenti eccetera ma c'è anche il lavoro poi anche quando rientri in redazione scrivere i pezzi lavorare si lavora anche dentro per preparare appunto pezzi che vanno per l'edizione di SkySport 24 è l'effimero perché il giorno dopo è già tutto cambiato e tutto deve ricominciare addirittura sei ore dopo è differente e devi cambiare anche, rivedi la notizia, la correggi, la sistemi, rivedi il pezzo così pure anche per quanto riguarda la presenza in studio nel mio caso devo dire che sono abbastanza fortunato con il nuovo direttore Matteo Marani Emiliano che ci vuole molto bene a tutti e due perché siamo Emiliani e non per questo perché è molto attenta alla nostra realtà e segue anche questo sito e Matteo adesso vuole che sia un pochino più dentro forse sarà meno esposto alle intemperie continuando a occuparvi della nazionale e degli eventi del weekend però è piena ecco ti assicuro che è una giornata piena la tua più grande emozione a livello sportivo, tu hai seguito tutti i grandi eventi degli ultimi vent'anni se mi devi dire secco, qual è l'emozione più grande? ce ne sono diverse, dipende anche dalla disciplina allora l'ultimo scudetto che ho fatto con la pallavolo quando ero in piedi sul tavolo insieme a Gianni e Gardini quello scudetto lì perché era quello in cui la semifinale a Ferrara aveva un po' stuzzicato gli animi dei ragazzi perché erano definiti dei vecchietti e i vecchietti fecero un gran finale emozioni belle guarda 92 la finale di pallanuoto delle Olimpiadi finali di calcio, qualche scudetto ne ho visti piacevoli non bellissima ma molto forte Istanbul perché in finale di Champions League del Milan era così poi il mondiale 2006 direi quello sì stavi raccontando di quel passaggio, di quella promozione a Firenze allora i giocatori mi dicevano se capita quella cosa non capita ma se capita che fosse promozione, festa scudetto, salvezza eccetera ti aspettiamo nello spogliatoio e questo per me era sempre una garanzia diciamo del bel rapporto che c'era con le persone prima le persone poi la notizia e allora a Firenze cosa succede? con lo spareggio la Fiorentina va, ritorna in Serie A Fiorentina della Valle si va nello spogliatoio allora c'erano meno vicoli non si poteva andare si va nello spogliatoio è cerco mondonico che non sta bene si sente che è un attacchi cardia da felicità e da emozione forte visto che poi i della Valle probabilmente volevano separarsi da lui cambio stanza e c'è la piscina nei vecchi stadi c'è la piscina per lo scarico una mano proditoria non so chi fosse non so se non me lo ricordo mi butta dentro la piscina piscina alta un metro e venti io ho rischiato di affogare perché avevo le scarpette di cuoio che ci volavano sul fondo e col microfono in mano già che creerate vengo fuori e mi trovo di fianco del sindaco Dominici e della Valle Diego che erano anche loro in ammollo a festeggiare il microfono va allora prontezza di riflesso il mio regista sento qualcosa siamo in onda siamo in onda siamo in onda dammi il microfono questo non va mi faccio il microfono della camera sfilano il microfono della camera e poi faccio un'intervista che per i fiorentini rimane ancora una cosa bella un must per loro perché ricordo il loro ritorno in serie A dopo le note vicende del fallimento eccetera con Dominici e della Valle belli giacchi e cravata però fradici perché era anche loro in una piscina io ricordo che sono uscito dopo questa intervista dopo altre interviste alla fine mi sono tolto l'abito così mi veniva via le maniche ho fatto un pacchetto ho messo nel cestino dei rifiuti fuori nello stadio Franchi e sono andato quasi in mutande in macchina perché avevo qualcosa per cambiare ecco mi è capitato anche col Modena quando eravamo poi a Genova ad aspettare il risultato di Cosenza mamma mia che bello quello lì è stato bello è stato bello perché poi hai la fortuna di conoscere le storie della gente e ti ha e per quello io non tifo proprio una squadra perché ho tanti amici dappertutto conosco le vita, morte, miracoli e fatiche e dolori e anche felicità di ognuno e ogni giorno so che se uno vince uno ride e l'altro ride meno ed è bello conoscere le storie della gente perché riesce anche a immedesimarti in questo sapendoti poi di staccare per cercare di essere abbastanza obiettivi nel racconto ecco poi l'obiettività non esiste per cui pur essendoci sempre stati dei contrasti se vuoi perché lui era molto rigido io seguivo già il Milan e allora aspettiamo che non è a posto la prima domanda la fa lui e devo dire che a me questo lusingava me l'ero conquistato forse cercando di rispettare il lavoro cercando di non essere troppo secchioso perché il cappello non andava bene e questo e allora ecco mi ricordo che non è a posto l'inquadratura faccia l'inquadratura mettevamo l'inquadratura a posto fa la domanda se uno passava davanti no la prima domanda dovevo farla io e questo per me senza che chiedessi nulla per carità perché una volta mi aveva beccato che lo imitavo mi aveva beccato mi ricordo lo prendevo e allora ho fatto finta di niente poi il giorno passavamo una serata lunga una giornata lunga all'aeroporto di Copenaghen tornavamo da Copenaghen Milano Milano credo avesse vinto 6-0 qualcosa del genere eravamo in coppa e lui e si rupe l'aereo e allora cosa facciamo cosa non facciamo si è stati lì il bar dell'aeroporto poi andiamo a fare un giro a Copenaghen e si va a fare un giro ma dove si va si va a vedere nei musei uomo di grande cultura di grande sensibilità non come Erigo Sacchi anche come Erigo Sacchi voglio dire ma è diverso perché Erigo Sacchi mi ricordo che una volta tu gli facevi una domanda a due poi faceva tutto lui Erigo come io faccio adesso allora dopo una giornata intensa a casa sua domanda delle 100 pistole a me senti Marco se succhiamo come dici te si perdi ma cosa ne pensi cosa ne pensi dei pittori fiamminghi del 600 perché lui c'era questa passione dei pittori fiamminghi del 600 l'ho buttata sulla luce e abbiamo parlato di luce di Caravaggio parlava sempre a lui ovviamente io ho detto la luce la luce Erigo si perché e via è andato lì mi aveva messo in difficoltà abbiamo avuto la fortuna di avere anche queste frequentazioni che ci hanno arricchito anche personalmente allora siamo in chiusura a Marco Nosotti cioè con Marco Nosotti staresti a fare a parlare o a fare un'intervista circa 4-5 giorni più o meno è stato un onore intervistarti per la prima di Parlando di Sport con caro Marco in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo e un grazie enorme grazie a voi perché sono tornato anche a casa poi ritorno a casa un po' di più perché non ho mai mollato a Milano ci ho abitato un po' ma poi vi torno ad abitare a Formigine sono molto legato allo sport modenese in bocca al lupo vediamo cosa fanno i gialli vediamo cosa fa il sassuolo cosa fa la nostra pallavolo e anche tanti altri sport minori che seguo quando posso perché c'è sempre grande passione anche nella nostra terra e sono legato a questo